Sì, diciamo innanzitutto che anche il nostro seggio ovviamente si è incluso alle 14.30 e la commissione del CPO, commissione elettorale, composta dal presidente Avvocato Giuseppino Stuni, dal segretario Avvocato Saverio Regano e dai componenti, a mia destra l'Avvocato Rosa Petruzzai, Vianne Lerenda e l'Avvocato Fabio Mastrovi. Il risultato della votazione secondo la gradatoria lo vedremo a prima. Numero votanti 2.277, totale schede sbubinate 2.277, in cui schede bianche 44, totale preferenze espresse 17.924. 1.277, numero 8. C'è un numero delle preferenze. C'è un numero delle preferenze. Castellaneta Michele 488, Zotti Leonardo 498, Console Antonio 501, Ossitano Iolanda 528, Armenis Teresa 534, De Lorentis Barbara 565, Lomito Maria Vittoria 690, Del Vecchio Maria Giovanna 613, Angelini Daniela 663, Ferrari Carta 674, Hierro Rosa 691, Ruscella Maria 709, Conte Flavia 738, D'Alessandro Loiacono Federica 741, Castellano Soldano Luisa 747, Ferreis Paola 750, Lassi Maria Vida 780, Acquafredda Eugenia 790, D'Alessandro Domenico 824, Rossini Giulia 840, Brunetti Giovanna 866, Abateciani Alessandra 200.